Andrà in scena domani la settima giornata nel campionato di divisione nazionale B. La Dynamic Venafro ed il Globo Isernia scenderanno in campo alle ore 18. Entrambe le molisane non stanno passando un bel periodo di forma e sono relegate nei bassi fondi della classifica, rispettivamente con due punti venafrani ed addirittura il Globo è rimasta l'unica formazione a quota zero. Il calendario non sorride, infatti il Venafro ospiterà al Palapede Montana la capolista Bisceglie ed il Globo in trasferta sarà ospite in terra abruzzese del vasto di coach Sandro Di Salvatore. Partiamo dalla partita di Venafro dove da riscattare per la banda Mascio c'è la sconfitta di Taranto arrivata dopo una partita sempre tirata, sconfitta che brucia perché i pugliesi sono alla portata della squadra molisana. Ora però il pensiero è rivolto al Bisceglie, autentica corazzata del campionato e insieme all'Agropoli in testa al girone con sei vittorie e nessuna sconfitta. Da tenere d'occhio la vecchia conoscenza molisana a Mauro Torresilelli, play dai tanti punti nelle mani. Dal canto suo il coach di Venafrani spera di recuperare gli infortunati per provare a dare il primo dispiacere ai pugliesi e per provare a cominciare una risalita in classifica. Per la gara di Venafro sono stati scelti Andrea Bernassola di Palestrina e Daniele Valeriani di Ferentino. Per il Globo eserno è una situazione ancora più critica. È vero che la squadra allenata da Cocicidio Cardinale è una neopromossa, è anche vero che il roster è molto giovane ma è anche vero che la compagine Pentra ancora non riesce ad ingranare ed a mettere in classifica i primi punti avendo raccimolato fin qui sei sconfitte consecutive in altrettante gare di campionato. E domani c'è l'ostica trasferta di Vasto con i padroni di casa che partiti con grandi ambizioni si ritrovano al penultimo posto in classifica con solo i due punti e con una vittoria a fronte di cinque sconfitte. Vincendo domani una squadra raggiungerebbe proprio i vastesi e si schiederebbe finalmente da quel maledetto zero. Per il match del Pala BBC sono stati designati Francesco Pepe di Adelfia e Nunzio Spano di San Nicandro di Bari.